Buongiorno ragazzi, bentornati su Noma Mammazzo e bentornati nella mia rubrica Toys and Unboxing, rubrica che solitamente non mi vede protagonista in volto, ma vede protagonista proprio i giocattoli che metterò qua sul tavolo della mia cucina. Sembra una puntata di Thomas Angry perché oggi ci saranno dei ninja da tavola, però non mangeremo nessun piatto enorme, semplicemente vi mostrerò la mia collezione delle tartarughe ninja del 1987. Se non siete ancora iscritti al canale vi ricordo di registrarvi qui sotto, attivare la campanella delle notifiche, mettere un bel mi piace al video e anche a tutti gli altri, soprattutto andate a vedere la playlist dove ci sono altri video simili e condividete il video con tutte le persone che amano le tartarughe ninja e commentate qui sotto con quello che avete voi di questa collezione o anche dei vostri giocattoli di infanzia preferiti. Bene, partiamo subito nel vivo, in realtà ve li ho messi in ordine di popolarità, partiamo con i cattivi, partiamo con Baxter Stockman che nei fumetti in realtà non diventava assolutamente un uomo mosca, non era nemmeno caucasico, era afroamericano ed era un genio del male che costruiva robot. Qui invece l'hanno fatto diventare un lacché di Shredder inizialmente e successivamente l'hanno fatto diventare una mosca mutante perché c'era un grande successo a quell'epoca del film con Jeff Goldblum, la mosca. Nelle versioni successive, mi viene in mente quella del 2012 che io apprezzo tantissimo, hanno unito entrambe le cose, quindi è uno scienziato, costruisce robot, costruisce i Mauser, è afroamericano ma allo stesso tempo non è un genio del male ma è abbastanza inetto e dopo una carriera iniziale da solista entra tra i ranghi di Shredder e all'ennesima delusione del maestro viene trasformato in una mosca. Quindi la cosa bella per esempio della serie del 2012 dice che uniscono tutte le incarnazioni precedenti dei personaggi e questa la forza di questa serie per un vero fan delle tartarughe ninja. Continuiamo subito col maestro Shredder perché come vedete è conciato malissimo quindi non sto più di tanto a mostrarvelo. Ovviamente non è il primo Shredder, non è quello originale, era quello che aveva tutte le varie lame che ruotavano con la mollettina qua dietro ma è tutto distrutto, è menomato di una mano. Lo tengo giusto per avere uno dei personaggi più importanti della saga nella collezione ma dovrò trovarne uno che non sia completamente distrutto. Continuiamo con personaggi menomati e dove trovarli. In realtà io ho di questo personaggio che è bebop nella versione originale con la testa rigida non morbida. Ho anche la versione mutation ma ho voluto mettere così diciamo nel mio display del mio studio ho voluto mettere la versione originale perché si vede molta più carne e si vede appunto quanto siano bestiali questi due scagnozzi. molto punk, queste dovrebbero essere delle all stars rosse, un gilet, torso nudo, una catena come cintura, è molto molto figo. Le gusci di tartarughe sulle spalle, fantastico. E va in coppia con Rocksteady. Rocksteady anche lui è conservato leggermente meglio ma comunque molto conciato. Ho recuperato di recente la cintura con i gusci di tartaruga sulle cosce, pantaloni militari, anfibi, canotta che nel giocattolo era nera, nel cartone era gialla, l'ho ripitturata per dargli più un senso di nostalgia con anche delle mandane laterali che ho recuperato con del nastro, con degli elastici. Occhi molto ferini a differenza del film, che mi sono sempre piaciuti un sacco, sono molto piccolini, ma sono piccolini anche nel cartone perché fondamentalmente sono degli umani con del DNA di animale, quindi ci sta che non siano enormi. Anche se un rinoceronte poteva essere davvero enorme, davvero pericoloso, ma non l'hanno gestito così nel cartone dell'87, poi quello del 2012 già l'hanno fatto un po' più grosso e pericoloso. Passiamo invece con i protagonisti, passiamo dal primo essere umano che conosce le tartarughe ninja, ovvero April O'Neil in questa versione che non è la mia versione di infanzia, anzi quasi non credo di averla avuta per moltissimo tempo, April O'Neil sicuramente non l'ho mai avuta con la divisa gialla, l'ho avuta nella versione tartarughe ninja 3 giapponese, quella versione in cui aveva la gonnellina il kimono, quella cosa lì. Questa l'ho recuperata di recente per completare la collezione, sono stato felice come un bambino di aver recuperato April O'Neil con la divisa gialla che ha nel cartone, ci sono anche altre versioni negli altri cartoni di April O'Neil ma mi piaceva recuperare questa. Ah scusate ho dimenticato un cattivo, perdonatemi, dove ho la testa? Dove ho il cervello? Eccolo qui dove ce l'ho. Crang, in tutta la sua bruttezza o bellezza che si può anche mettere sul dito o su un pennarello eventualmente, con il suo corpicino robotico piccolino, ancora con tanto di vetro, ormai quasi tutto appannato però è un bel personaggio. Non mi è piaciuto tantissimo nel cartone animato dell'87, si rifà un po' i personaggi degli Ultron nel fumetto, tra l'altro sempre nel cartone animato del 2012 hanno fatto una bella accoppiata, li hanno chiamati i Crang come se fossero una fascia ribelle e cattiva degli Ultron, quindi hanno unito anche in questo caso tutte le versioni precedenti. Bene scusate stavamo parlando di personaggi positivi, quindi insieme a April c'è Casey Jones nella sua versione sempre dell'87 con una mazza da hockey che non è di questa serie, l'ho recuperata successivamente, anzi questa ve la dico già è di Leonardo versione hockey, di un giocattolo di Leonardo vestito da hockey. Questa è la sua sacca originale, la maschera che è fissa purtroppo non si toglie e giusto per far vedere che questo video non è per i bambini, oh sì, April, April, sì sì, ok, così almeno YouTube non mi rompe le palle. Perfetto, Casey Jones, fantastico personaggio, trattato pochissimo nel cartone animato dell'87 e trattato molto molto bene nel primo film degli anni 90 e anche nella serie animata del 2003, un pochino meno in quella del 2012, però diciamo che in generale la versione peggiore come rispetto del personaggio è quella dell'87, proprio perché è un personaggio molto violento e quindi lo hanno azzerato completamente, così come hanno fatto con il carattere di Raffaello nella serie dell'87. Il maestro Splinter, Allegria, che per l'occasione parla come Mike, buongiorno! E quindi vi faccio vedere che ha ancora il suo kimono originale che io spesso usavo sul giocattolo D-Man per farlo sembrare il principe Adam, Allegria! E lasciavo nudo questo topo! Non ha più la sua cintura originale ma ha usato della corda, quello che si potrebbe trovare in una fogna New York, ha in mano l'Use della TCRI e ha il suo bastone, che non è di questa versione, di una versione successiva di Splinter, che si trasforma in una balestra. Ma so che non siete qui per questo, siete qui per le tartarughe, quindi passiamo subito a vedere le tartarughe. Ecco qui un po' di tartarughe, ragazzi, eh! Sono cattivo, ve le sto facendo sudare. Qui abbiamo Metalhead, nella versione sempre dell'87, doratissimo! Fantastica versione robotica di una tartaruga, l'hanno trattata molto molto bene nel fumetto della IDW e anche nel cartone del 2012. Hanno ripreso bene il personaggio di Metalhead. Se vi piace questo personaggio, recuperate queste due altre versioni. Anche il giocattolo del 2012 è molto carino, non è così dorato però. Addirittura qui gli occhi si illuminano in base al sole. Dopodiché, un capitolo particolare per questi due elementi. Come vedete, uno è Slash, lo capite dal colore della tartaruga, famosissimo ormai associato a Slash, e l'altro è Tocca. Questi due personaggi sono molto simili, specialmente nella creazione del giocattolo, tant'è che io ho preso apposta la versione Mutation per differenziarlo, perché sennò sarebbe stato uguale a Slash, solo col volto di Tocca. Tocca è dal secondo film, Tartaruga Ninja e il segreto di Huz, mentre Slash viene direttamente dai cartoni animati. Ma come spesso accade in tutti i cartoni, ma come spesso è accaduto nella serie animata dell'87, questo Slash non è assolutamente come quello che poi si vede nella serie animata, è molto più figo, così come i giocattoli delle Tartaruga Ninja dell'87 sono molto più fighe rispetto alla versione cartonistica del cartone dell'87. Questo Slash con la bandana nera viene ripreso anche nel fumetto della IDW, anche se non è così bassino, non è così rosato, assomiglia molto di più a Tocca. Tocca invece, appunto, vi dicevo che è del film del 2012, l'ho preso nella versione Mutation in modo che fosse più grande rispetto alle Tartarughe Ninja e si accompagna sempre alla versione Mutation per gli stessi motivi di Razar, che è fantastico. Tra l'altro la NECA adesso ci ha fatto anche le versioni cinematografiche che sono stupende. Andatela a recuperare su internet, vedete dei video che sono stupendi. Questo è Razar, che è un lupo che è stato trasformato da Luz. Gli ho voluti prendere di recente questi, proprio perché anche in questo caso, purtroppo Tocca, essendo una delle tantissime Tartarughe, non è stata trattata tantissimo nel cartone del 2012, ma Razar è stato trattato in un'altra versione. Nella versione del 2012 c'è uno dei cattivi delle Tartarughe Ninja umano che si trasforma in Razar. Non con questo aspetto, con un aspetto molto più brutale. Mi piace molto di più questa versione, molto più lupesca di Razar. Bene ragazzi, il video si conclude qui. No, sto scherzando. Adesso vi mostro il piatto forte. Le Tartarughe Ninja dell'87 e le Tartarughe Ninja del 2012. Così le vediamo anche a confronto e ne parliamo per bene. Come vedete abbiamo Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello. Tutti migliori finiscono però. Eccoli qua. La bellezza della versione... Innanzitutto la bellezza della versione stampata dalla fabbrica, dalla casa di giocattoli. Prima che esca il cartone è sempre migliore perché se voi guardate il cartone del 2012 c'è una CGI abbastanza pessima, molto squadrata. Lo notate anche nelle ginocchiere e nelle versioni successive dei giocattoli. Stessa cosa nella versione dell'87. Hanno fatto questi fantastici giocattoli che si ispiravano molto alla serie a fumetti originale e poi li hanno un po' personalizzati con i colori delle bandane, con le cinture e con i colori della pelle. Invece poi nel cartone, tra l'altro i cartoni della pelle sono stati pure abbandonati e sono tutte molto più cartunesche, molto più goffe. Invece le versioni che hanno fatto prima del cartone sono spettacolari. Questa molto probabilmente la conoscete a memoria, quindi vi faccio concentrare un attimo su questa nuova per farvi notare i dettagli che potete trovare in questa versione. Vedete la fascia laterale che rende omaggio al film degli anni 90, le due fasce laterali che tengono le fodere delle catane. Questo è Leonardo, l'impavido leader. Fate caso al fatto che ognuno ha, oltre al colore diverso, come nella serie dell'87, anche i colori delle fasce diverse. Leonardo è l'unico che le ha bianche. Michelangelo, il party dude, cambia nettamente, drasticamente colore, fino a diventare quasi un verde pisello nella versione nuova. E' quello che è meno pitturato della nuova serie. Si potrebbe anche un po' customizzare, però li ho voluti tenere in modo originale. La serie del 2012 è molto più semovibile. Gli potete dare tutte le pose che volete. Se vedete, ecco, vedete? Rispetto alla serie dell'87. Ok, vedete com'è mobile. Chiaramente della serie nuova ho ancora tutte le armi, perché non sono stato così idiota da distruggerle, essendo adulto. E qui invece abbiamo la versione, la prima versione di Michelangelo. L'ho trovata anche con la testa morbida. Chiaramente queste le ho dovute ricomprare, perché le ho distrutte da bambino. Passiamo alla mente geniale del gruppo. Donatello, il nerd, il tech masters delle tartarughe ninja. Come vedete anche qui abbiamo le bandane per tenere il bastone, che però qui, vabbè, purtroppo si è rotto il portabastone, il portabò. Abbiamo un donatello molto scuro, è praticamente marrone, non è neanche grigio. E anche questo non lo hanno fatto nel cartone, l'hanno solo sempre tenuto di questo colore nei giocattoli. sia nei giocattoli del 1987 che in quelli del 2003, hanno cambiato drasticamente nel 2012, rendendolo di un verde molto, molto calmo. Non so come definirlo, se c'è qualche intenditore all'ascolto di tonalità di colore, fatemi sapere come si chiamano tutti questi verdi. Hanno cambiato decisamente, come notate, anche le altezze dei nuovi protagonisti cambiano, a seconda del personaggio ed è una cosa che io adoro, perché innanzitutto dona personalità al personaggio e, in secondo luogo, hanno tenuto le altezze, le fattezze degli attori del film degli anni 90. Se ci fate caso, anche il donatello alla fascia larga, come nel film degli anni 90 e 91, e anche 92, 93, volendo vedere, c'è il portabastone bo, il bastone ce l'hai in mano, chiaramente. Se lo trovate col bastone arancione e non marrone, significa che non avete comprato la prima versione del 2012, che ormai è introvabile, avete comprato un bootleg. Non c'è nessun problema, sono fatti comunque benissimo. Come sempre, anche qua le teste sono molto articolate. La bandana è molto lunga, cambia il viola, è quasi un violetto, qui è proprio un viola scuro. Non saprei proprio dirvi qual è il mio preferito, sono tutti fantastici, sono fatti bene. Vi posso dire che questo è il primo che mi hanno regalato della serie del 2012, che mi ha invogliato a scoprire tutto il resto, a riscoprire il magico mondo di questi giocattoli. Vi faccio vedere i dettagli anche qua. Come notate, Raffaello è quello che ha il colore più scuro, quasi riprende il colore di Michelangelo dell'87. Come notate, anche qua è quello che ha la fascia più scura, anche rispetto a Miki. Proprio per personalizzarli al massimo, alla corazza ammaccata, proprio per simboleggiare il suo carattere rissoso, irascibile rispetto alle altre tartarughe. bandana lunghissima e al vento, è davvero fantastico. Sai, impugnabili, molto larghi, con la possibilità di infilarli nella cintura sul retro, non sul davanti come nella serie dell'87, ma proprio perché anche nel cartone animato è così. L'infila sul retro anche lui. Lo confrontiamo con il Raffaello classico, che ha, credo, il verde più base rispetto agli altri. È un verde né chiaro né scuro, diciamo, un verde base. Chiaramente Raffaello non ha bandane laterali, proprio perché deve tenere semplicemente due sai nella cintura. Ovviamente io adoro che abbiano le ginocchiere, le gomitiere, le polsiere scure, come nel film, come nel fumetto e non colorate come nei cartoni, tant'è che quando ero piccolo io avevo colorato anche le fasce di nero con l'invelebile, proprio per farle sembrare più vicine al film. Queste ovviamente le tengo molto da conto, dato che voglio tenerle da collezione, però ecco, per mostrarvi la differenza. Il guscio io lo preferisco con la stampa dell'87. Per quanto riguarda invece i colori, dato che questo guscio è praticamente nero, se vi avvicinate tantissimo noterete che è un verde scurissimo, ma è praticamente nero, invece come colore io preferisco questo guscio. Però come forma adoro questo, anche perché è diventato proprio il logo delle tartarughe ninja dall'87 in poi. Bene, con questo è davvero tutto, io vi saluto sempre con l'inchino e con l'imbuto. Finiamo questo video mostrandovi un'ultima volta tutte le tartarughe ninja a confronto. Io sono felicissimo di avervele mostrate, farò altri video delle tartarughe ninja se vorrete, fatemi sapere l'argomento di preciso. Possiamo trattare qualunque cosa, il carattere dei personaggi, nemici, la serie del 2012, la serie dell'87, anche se chiaramente dovrei rivederla. Fatemelo sapere, io sono qua. E vi saluto. Ci vediamo tra pochissimo con un altro video per celebrare l'anniversario del canale. Arrivedorci. Vi saluto. Grazie. Grazie.